Soltanto questi contributi filmati, Svono e Luca, però io non so se è competitiva per il titolo. Non lo so, guarda Giorgio, io non voglio entrare nel mezzo, sono solo contento che sia finita un sacco di tempo da qui alla fine del campionato per cercare di rientrare. Grazie a tutti per aver guardato il video.